Il 19 novembre 1915 Joe Hill fu fucilato da un plotone d'esecuzione al Salt Lake City. Come Malk Mix, Patrice Lumumba, Che Guevara o Thomas Sankara è morto assassinato dal nemico di classe. Ha neanche 40 anni, 36 per l'esattezza. Questa pagina epica, tragica e sanguinosa della storia della classe operaia delle Americhe merita di essere raccontata. È la storia di uomini e di donne che erano fuggiti dalla vecchia Europa in cerca del paradiso in terra e caddero nell'inferno del capitalismo più assassino della storia insieme ai loro fratelli e alle loro sorelle neri e nativi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.